Finalmente! Tutti i potenziamenti andranno nei mondi giusti per una volta! No, li ho cambiati tutti all'ultimo secondo. Cosa? Perché? Voglio farmi licenziare. Oh no! Tutto ciò che deve fare è pronunciare le parole del potere per controllare il tuo home! Non appena pronuncerà quelle parole saremo sbagliati! Eh? Che cos'è? Uh, una radio con funzione di codec! Sì, va bene, mi ci trovo bene. Tu che dici, Zitz? Sinceramente non mi sento a mio agio. Uh, nuove piante! Tu hai 69? Ma che cazzo! Quale sceglierai? Squirtle, Bulbasaur o Dark Bahamut? Dark Bahamut! Ehm, credo che io prenderò... Squirtle? La pistola d'oro di GoldenEye! Preparati a morire, Sonic! Eh, figo! No! 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 Grazie.